L'app per me per noi è disponibile, ci sono imprese, associate CNA che offrono i loro servizi cittadini, i cittadini possono facilmente trovarle, rivolgersi a loro, capire quali sono le loro eccellenze, i loro orari. Perché CNA ha voluto creare questa ulteriore vetrina per le proprie imprese? La CNA dopo l'anno del Covid aveva già cominciato a intuire che il Covid portava a nuovi paradigmi economici, che era quello un po' del distanziamento, ma allo stesso tempo nel distanziamento molte imprese hanno visto anche che i clienti volevano continuare a consumare, continuare ad acquistare, quindi molti dei nostri associati non avevano strumenti di comunicazione se non quelli analogici e quindi noi abbiamo pensato e abbiamo promosso questo progetto per fare in modo che l'applicazione mobile che permette al consumatore di prenotarsi presso tanti servizi, dagli accorciatori, gli estetisti, gli idraulici, gli elettricisti, i manutentori, permetta anche poi agli imprenditori di crescere sul mondo digitale, perché il futuro dei consumatori e del consumo è anche fatto di comunicazione sul mondo digitale, sulle piattaforme digitali e anche sui social, quindi noi pensiamo che questo strumento al di là della pandemia che finirà prima o poi rimarrà un'opportunità che tutte le micro imprese dovranno valorizzare naturalmente nelle loro dinamiche produttive.